Le previsioni meteo di Globus Television per mercoledì 11 settembre 2024 La pressione stabile sulla regione Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni in diminuzione 20 deboli variabili Mari, Martirreno molto mosso, Mare Ionio mosso, stretto di Sicilia agitato